Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, siamo nel pieno del quarto ed ultimo controesodo di questo mese di agosto e nel pomeriggio di oggi c'è stato un incidente nel tratto arettino dell'autosole tra Arezzo e Valdarno in direzione nord al chilometro 353. Si è trattato dello scontro tra un'auto e una moto, la peggio è toccata proprio a due coniugi che viaggiavano a bordo della moto. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Firenze mentre il marito è stato trasportato con il Pegaso sempre all'ospedale di Firenze. Sul posto, un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Allora sentiamo insomma quali sono le raccomandazioni proprio per questo fine settimana di grande traffico. Quarto ed ultimo fine settimana da Bollino Rosso per il rientro degli ultimi vacanzieri. Si prevede traffico intenso verso le regioni del centro nord, in particolare Anas stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Osservate speciali in vista del grande rientro le arterie autostradali per il territorio aretino, l'autostrada del sole. Nel terzo fine settimana di agosto, quello di sabato 19 e domenica 20, il personale Anas è dovuto intervenire nella viabilità di sua competenza per 564 soccorsi e 113 incidenti. Tra le strade con maggior flusso, la A12, l'autostrada del Mediterraneo. L'andamento medio del traffico nel mese di agosto, a confronto con il 2022, ha evidenziato un aumento del 2%. La Polizia di Stato ha smascherato due responsabili di altrettante truffe online. Nel primo caso si è trattato di un operatore che si fingeva essere un dipendente di poste italiane che ha contattato una cittadina retina al cellulare facendole disporre dei pagamenti per oltre 1000 euro. La donna si è accorta del raggiro, ha segnalato tutto alla Polizia Postale che ha rintracciato il responsabile, un trentenne italiano residente nella provincia di Chieti. Nel secondo caso invece un aretino è stato la vittima. Quest'uomo cercava una compagnia assicurativa per stipulare una polizza online, ha inserito i propri dati e fatto il primo bonifico ma la polizza non è mai arrivata. Anche in questo caso è stata la Polizia Postale a rintracciare il responsabile, esattamente un 35enne italiano residente nel sud Italia che ha stato anch'esso denunciato. E allora è stata un'estate davvero di una lunga scia di furti, alcuni andati purtroppo a buon fine, altri solo tentati ma le segnalazioni sono state davvero tantissime alle forze dell'ordine. Allora noi ne abbiamo parlato con un esperto, Sharon Carraturo. È stata un'estate di furti nella nostra provincia, furti commessi, sospettati, segnalati. Che cosa è successo nella nostra provincia? Ne parliamo oggi con Marco Pasquini e la PM Allarme. Allora, una marea di segnalazioni, alcune vere, alcune false, alcune purtroppo andate a buon fine. Come mai? Ma come mai? Purtroppo in questi giorni, quindi non solo passate ma anche presenti, c'è questa banda che si muove qui nelle nostre zone e usa questo sistema, fra virgolette, detto in aretino del succhiello, quindi che fa il buchetto, in realtà viene fatto con un piccolo avvitatore e una punta legno e quindi poi con un attrezzino apre le persiane e si introduce all'interno degli appartamenti anche con la gente che sta dormendo, ripossando. Quindi, insomma, abbastanza sgradevole anche il fatto di potersi trovare i malviventi vicino. Come si può cercare di arginare questo fenomeno? Cioè, per proteggere la propria casa, ora al di là dei sistemi classici, antifurto, telecamere, c'è qualcosa che si può fare in economia? Ecco. Sì, in economia è una regola che io davo 35 anni fa, la famosa boccettina di succo di frutta piccolina. Perché? Perché uno, diciamo, la appoggia, dove c'è la possibilità, nel davanzale, quindi che sia la finestra sia chiusa, sia che sia leggermente aperta. Ora, diciamo, il malvivente comunque per entrare dentro l'appartamento apre sempre o passa attraverso il vetro, ma la porta deve essere molto grande e quindi, aprendo la finestra, fa cadere la boccettina che fa rumore e quindi dovrebbe, diciamo, allertare i proprietari. Come vedi questo nuovo fenomeno di, come dire, di tam-tam per destare attenzione? Allora, il fenomeno, questo fenomeno qui, che purtroppo ora con l'avvento del web, diciamo, sta esplodendo, è un po' falce martello, nel senso che, per quello che riguarda le forze dell'ordine, sicuramente ci sono delle immagini prese dal telefonino, dei sistemi di videosorveglianza e vengono utilizzate, chiaramente, oppure dei furti che vengono, fra virgolette, trasmessi in diretta, chiaramente allerta al vicinato e quindi avrebbe un senso logico. Il problema è che si va a scontrare in maniera pesantissima, quindi c'è anche un rischio denuncia, con il garante della prepsi, con le normative, perché uno non può assolutamente divulgare immagini non autorizzate. Anche se, come prima parlavamo assieme, dice, ho la targa dell'auto che ho visto, che è un ladro, è la targa di un ladro veramente? Se viene divulgata una targa sbagliata, un numero sbagliato, una foto sbagliata, lei pensi dietro, che potrebbe essere la macchina sua o mia, che non centriamo nulla a quello che c'è. Quindi molta, molta, molta attenzione all'uso, poi si vede in questi giorni, con questa polemica che è venuta della divulgazione delle immagini di quel fatto di Palermo. Molta attenzione, perché poi, insomma, screditare una persona per una notizia non vera diventa un problema. Il consiglio che do io, che abbiamo sempre dato ai nostri clienti, che do anche a tutte le persone che conosco, è queste immagini, se uno ha la possibilità o la fortuna di riprenderle, di consegnarle ai carabinieri, che è l'unico, o carabinieri o forze dell'ordine, che è l'unico, che sono gli unici organi preposti per poterle gestire, perché si fa l'autorizzare da magistrato per poterle valutare. Non si può fare giustizia da soli, questo non è possibile. Una vendemmia con una produzione ridotta anche nel territorio aretino, come del resto in buona parte d'Italia, è Saverio Luzzi, presidente della Strada del Vino Terre di Arezzo, a fare il punto sull'annata 2023 dalle colonne di Arezzo Notizie. Purtroppo le grandi pioggi, dice, dei mesi scorsi hanno compromesso importanti potenziali volumi di vino, falciando il 20-30% dell'uva. Le aree vitivinicole della provincia sono varie, dalle zone attorno alla città alla Valdichiana, passando per Valdarno e Casentino, e ovviamente il quadro è eterogeneo, ma mediamente l'umidità ha portato alla malattia della peronospora, che ha ridotto sensibilmente la quantità dei grappoli prodotti. Chi ha le vigne in basso ha faticato ancora di più, chi ha i filari invece in collina e in alta collina ha avuto minori ripercussioni. Nella speranza poi conclude il presidente della strada del vino che non arrivino nuovi diluvi che potrebbero portare addirittura la muffa e quindi compromettere definitivamente la produzione. Apriamo la pagina della giostra del Saracino, perché questa mattina in una gremita sala del Consiglio Comunale di Arezzo, c'erano anche molti tifosi, è stata presentata la lancia d'oro in palio per la 144esima giostra del Saracino, dedicata ai cento anni dell'Arezzo. La sciarpa è il campo alla battaglia che praticamente inizia la giostra, però è anche un richiamo a uno striscione fatto dai ragazzi della Curva Sud per caricare i nostri ragazzi in campo. Cento anni di storia dell'Arezzo Calcio, racchiusi in un anno, il 2023, in una pubblicazione e adesso rappresentati anche dalla lancia d'oro. Praticamente mi sono riallacciato un po' alle vecchie lance degli anni 30, le prime lance, che erano molto belle, aggraziate, delicate, gentili. A me piaceva proprio quel termine della gentilezza della lancia. Il legno è il legno di Tiglio, dove si adova prevalentemente nella scultura linea. E' quello, non è che me lo invento io, ma pochi, e questo signor Vasari, che non è l'ultimo, o l'altro anche, che è un grande, che si chiama Michelangelo, nelle sue sculture linee, prevalentemente, quasi sempre o sempre, adopano il legno di Tiglio. Il trofeo sarà in palio domenica 3 settembre, in occasione della 144esima giostra del Saracino. I quattro quartieri, Porta del Foro, Porta Crucifera, Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea, faranno davvero di tutto per portarla nella sede dei loro quartieri, perché questa lancia concilia due passioni, la giostra e l'Arezzo. Riuscire a coniugare due passioni, come ho detto prima, con degli elementi ben distintati loro, non era semplice. Alla fine qui si è dimostrata tutto il valore di Arezzo, anzi degli aredini verso Arezzo, perché dedicare la lancia all'Arezzo Calcio è un po' come diceva D'Andrea, unire il sacro e il profano. Quindi complimenti per questa dedica e soprattutto per noi rappresenta un elemento di responsabilità nel momento in cui indosseremo quella maglia. Avrà sicuramente un peso ancora maggiore rispetto a quello attuale. E proprio in occasione della settimana della giostra, il Museo dei mezzi di comunicazione regalerà una speciale ombra di giostra. Si tratta di cartoncini sagomati con i protagonisti della manifestazione a retina, il Cavaliere e il Cavallo, che potranno essere personalizzati dai più piccoli con i colori proprio dei quartieri preferiti e potranno essere poi proiettati grazie ad una piccola luce su uno schermo oppure semplicemente su una parete. Parliamo adesso invece di stelle, perché è stato inaugurato l'Osservatorio Astronomico di Arezzo con la prima serata di apertura al pubblico. Questo è il bellissimo nuovo osservatorio che abbiamo qui presso l'impianto di San Zeno. Potete vedere all'interno sono presenti i due telescopi che saranno in funzione dell'osservatorio proprio per fare osservazione, per fare ricerca scientifica. Uno è un telescopio che sarà dedicato, quello più grande, al Sistema Solare, alla Luna, ai pianeti, quindi tutto quello che concerne proprio lo studio del nostro Sistema Solare. E l'altro è un altro bellissimo strumento, un telescopio solare professionale e molto potente che ci permetterà invece di fare tutto uno studio sulla nostra stella, quindi sul nostro Sole. Dalla Luna a Saturno fino alla nostra stella più grande, il Sole. Qui al nuovo osservatorio astronomico di Arezzo, situato nella resede del termovalorizzatore di San Zeno, sarà possibile osservare le stelle. Pochi giorni fa, la prima serata di apertura al pubblico da parte del gruppo Astrofili di Arezzo. Ecco, tutti gli eventi ovviamente saranno organizzati dal vostro gruppo, cioè non ci sarà insomma un utilizzo autonomo da parte dei cittadini o degli studenti? No, ecco, sarà sempre sotto forma di prenotazione perché comunque è uno strumento professionale dove faremo eventualmente con maggiore auspicio ricerca. Però ecco, ci saranno le aperture al pubblico anche le domeniche mattine qualche volta per portare tutti i cittadini a osservare il Sole e tutti i mercoledì dell'anno sarà aperto a tutti su prenotazione. Chiunque tutti i mercoledì potrà venire a assaporare gli anelli di Saturno, vedere la Luna in tutta tranquillità senza nessun costo assolutamente, questo sì. Presidente, perché la scelta di ospitare un osservatorio astronomico qui nel resede, diciamo così, dell'impianto di San Diego? Grazie, è una domanda molto intelligente questa. Per un semplice motivo, perché la direzione che ha preso questa centrale di recupero, che in questo momento ricordo è in costruzione con tutte le difficoltà del caso anche legate ai ritardi con cui arrivano i pezzi dovuti al caro che tutto è diventato tutto caro, complicato, questo sta diventando sempre di più un polo scientifico e tecnologico. Quindi bisogna sforzarsi, avere il coraggio di immaginarlo come sarà quando sarà completato, quando ci sarà appunto anche tutta la nuova linea di termovalorizzazione che ci toglierà tanto imbarazzo e anche tanto trasporto. Quindi la scelta di coinvolgere i gruppi di persone appassionate di materie scientifiche diventa in questo caso strategico perché questo è un polo di divulgazione scientifica a questo punto. È chiaro che è una forma di zero spreco, cioè un oggetto che serve per smaltire, recuperare i rifiuti eccetera eccetera deve anche ridare indietro qualcosa. E per questo stiamo appunto lavorando alla zero spreco card che tra breve appunto vedrete, qualcuno vedrà già nelle sue case. Alla firma di una regista aretina, Lucia Senesi, Medea il cortometraggio che è un'interpretazione moderna della celebre tragedia greca ambientato a Los Angeles. Il drammaturgo Euripide racconta che Medea non perdonò al marito Giasone di essersi risposato in preda al suo istinto vendicativo. La donna uccise la nuova moglie e i suoi stessi figli. Quello che accadde nei giorni successivi al delitto è però sconosciuto e proprio da qui inizia il racconto della nuova opera proprio del regista aretina. Adesso invece parliamo di una storia che parte da Cortona ma arriva fino all'America. Sentiamo perché. Parte da qui dalle campagne cortonesi l'ascesa nell'orimpo del reining di Adriano Meacci preparatore delle squadre azzurre ai campionati mondiali di Ginevra. Io mi sono avvicinato a questa disciplina proprio prima di tutto quando ho visto questo cavallo. Ho visto questo cavallo, era il prototipo del mio ideale di come doveva essere costruito un cavallo per lavorare. Tutto nasce dalla passione per i cavalli prima con le gare ippiche, poi negli anni Ottanta all'incontro con il mondo del reining, disciplina tutta western. Ho iniziato a vedere questo cavallo che si muoveva in maniera dal mio punto di vista affascinante e quindi da lì ho iniziato a ricercare di imparare ma soprattutto di avere in casa tipologie di cavalle così. Reining significa letteralmente lavorare di redini tra infatti le sue origini dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy che utilizzavano i cavalli per radunare e contenere le mandrie di bovini. Arriva ovviamente dallo sviluppo e dalla rifinitura del cavallo da lavoro. Quindi il cavallo da lavoro che lavora con la mandria esegue certi esercizi che gli servono appunto per separare o andare a riprendere i vitelli proprio inteso come lavoro e da lì ovviamente è stato interpretato questi movimenti sono stati ripuliti, rimodificati. Potenza, equilibrio ed armonia le qualità ricercate nei cavalli quasi esclusivamente di razza Quartet Orz. È costruito benissimo, è bilanciato benissimo ha piombi giusti, incollatura, groppa, importante infatti se lo vedi muovere si muove con una leggerezza eccezionale e a grossa altitudine. Adriano Meacci è il preparatore atletico delle squadre azzurre amatori e professionisti ai campionati mondiali di Ginevra ha conquistato tre medaglie d'oro, un argento e un bronzo. Un record assoluto. L'inno è una cosa che mi mette i brividi anche adesso ovviamente e noi siamo abituati a far gare perché le facciamo tutti gli anni, tantissime però quando corri per la nazione è una gara diversa di conseguenza veramente hai addosso una responsabilità che senti al di là di te stesso la senti proprio per la tua nazione quando le cose poi funzionano e vanno come sono andate sentire l'inno è veramente a distanza di un mese ancora oggi con i ragazzi ci sentiamo tutti i giorni perché quei momenti rimangono per sempre. Il reining è definito spesso come il dressage della monta western riduttivo però, chiamarle i cowboy Secondo me è poco richiudere quello che facciamo nella parola cowboy anche se comunque hanno fatto la storia e tanta dell'equitazione arriva da loro Siamo cowboy però poi chi ci conosce fino a un fondo sa che siamo anche persone che hanno un'etica sul cavallo una gestione del cavallo quasi maniacale e che abbiamo destinato molti che fanno questa disciplina è diventato uno stile di vita perché ti riempie, ti completa e poi non hai mai finito quindi noi addestriamo i cavalli io ho scambi anche con i colleghi che fanno altre discipline provando i nostri cavalli e l'addestramento che c'è sopra e subito dopo non ci chiamano più cowboy ma ci chiamano cavalieri Domani a Monte San Zavino è il giorno del mercatino delle Pulci è l'edizione estiva appunto del grande mercato che poi si svolge in ottobre al centro affari e convegni ma non per questo meno partecipato i banchi apriranno intorno alle 9 del mattino per poi chiudersi alle 18 e coinvolgeranno tutto il centro del paese della Val di Chiana tutto pronto invece a Montevarchi per il perdono tutto pronto a Montevarchi per la festa del perdono che inizierà venerdì 1 settembre e terminerà l'8 di settembre l'evento clou sarà quello del trio Frassica, Haber e Veronesi che ci sarà martedì 5 a seguito poi pensiamo di proporre stiamo percorrendo tutto l'iter per incassare quelli che sono tutti i pareri per proporre anche lo spettacolo di fuochi d'artificio a basso impatto acustico per i nostri animali per il loro benessere ma sono tanti i momenti importanti ovviamente saranno festività come sempre che hanno come tema la tradizione perché non può essere diversamente quando è coinvolta la rievocazione storica ma sono davvero tanti perché è un calendario ricco di eventi per cui proporremo un aperitivo con i rocchini di sedano che sono tradizionali per la nostra città ma anche festività all'insegna della solidarietà con la mostra di Vincenzo Nasuto e le sue sciarpe d'autore che saranno vendute e parte del ricavato donato per il progetto Scudo di Calcit ma anche la presentazione del bellissimo libro realizzato dai fotoamatori che riguarda la città di Montevarchi per cui fotografie di come era prima e di come è adesso angoli della città ci sarà un ospite speciale sabato e domenica sarà presente qui con noi Wikipedro che riannoderà il filo che si era interrotto con il suo passaggio qui in città a Natale dove parlò per l'appunto del gioco del pozzo e sarà qui con noi proprio per viverlo in prima persona sicuramente è una festa del perdono molto piena il sabato e la domenica quindi 2-3 settembre all'interno della festa del perdono sarà allestita anche una grande area sportiva un'area sportiva in Piazza della Repubblica mattina e pomeriggio in cui 17 tra società sportive di diverse discipline e entri di promozione sportiva potranno promuovere appunto la passione per lo sport alla comunità in particolar modo ai giovani tra gli eventi il gioco del pozzo e la rievocazione storica di Montevarchi rievoca cerca di riportare di ricostruire un po' il momento in cui il conte Guido Guerra porta dopo la battaglia di Benevento del 1266 la reliquia del Sacro Latte a Montevarchi reliquia che aveva ricevuto in dono dal re di Francia e che aveva appunto richiesto come compenso per l'aiuto fornito in questa battaglia la salute prima di tutto così il comitato Stop Puzzo Arezzo ha indetto una nuova assemblea pubblica si terrà martedì prossimo 12 settembre alle 21 al Circolo di Chiani l'iniziativa è stata organizzata per coinvolgere i cittadini toccati da questo fenomeno segnalato ormai da molti mesi in previsione anche del Consiglio Comunale Aperto che si terrà il 21 di settembre a Palazzo Cavallo e siamo alla pagina dello sport iniziamo con il basket con il nostro racconto proseguiamo a farvi conoscere i protagonisti del prossimo campionato due metri di così di tanta voglia di vincere mi verrebbe da dire sì sì assolutamente tanta voglia di vincere sono venuto qui ad Arezzo molto carico per dare una mano il più possibile alla squadra e a questa società senti come stanno andando oggi è il primo giorno di allenamento insomma come ti sei ambientato hai già conosciuto i tuoi compagni sì sì ho già conosciuto i compagni mi sono sembrati un gruppo solido e con cui dai ci vuole poco ad andare d'accordo quindi questa secondo me è una cosa molto importante in una squadra abbiamo iniziato da poco i suoi allenamenti stiamo già tenendo un buon ritmo senza esagerare c'è un bel controllo da parte dello staff quindi tutti dei buoni presupposti diciamo hai già fatto un'idea del campionato che andrete ad affrontare le altre squadre sì allora sicuramente sarà un campionato tosto comunque siamo una squadra neopromossa quindi che è il primo anno che affronta questo campionato e ci sono sicuramente delle squadre più tosti diciamo rispetto ad altre da affrontare ma scendendo in campo con tutto quello che potremo dare alla nostra grinta e quello che possiamo offrire secondo me ce la potremo giocare bene o male con tutti dipenderà molto ovviamente da noi senti ci dicono figlio d'arte sì sì figlio d'arte mio babbo mio babbo ha giocato anche lui quindi sono nato anch'io sì col pallone in mano quindi dai fin da piccolo è stato facile iniziare questa strada speriamo vada avanti più possibile ma cosa è il tuo ruolo? io sono un 4-5 quindi gioco da lungo posso spaziare in entrambi i ruoli a seconda di quello che serve alla squadra ecco questi colori li hai conosciuti ci diceva il presidente nelle giovanili sì è un piacere di tornare qua ad Arezzo sono stato primo anno in Italia e adesso quest'anno trovo ragazzi nuovi però la gente qualche gente è rimasta ancora qua che conosco io niente sono molto contento di tornare qua c'è con la squadra siamo ragazzi giovani però puntiamo sempre in alto quindi dobbiamo lavorare adesso e metterci in gamba senti il tuo ruolo? 2-3 guardia ala insomma sarà un come dire un ruolo importante come tutti però ecco eh sì però l'allenatore è bravo anche assistente secondo me mi trovo bene mi troverò bene hai già pensato ecco alle squadre ti sei già fatto un'idea un po' del campionato che dovrete affrontare magari c'è una squadra che ti preoccupa di più? no sinceramente non lo so conosco 2-3 squadre però ero piccolo troppo facevo 15-16 però noi non abbiamo paura quindi affrontiamo tutti senza paura e parliamo adesso invece di calcio femminile perché anche sul fronte appunto dell'Arezzo calcio femminile sono ripartiti i motori come si suol dire in vista della prossima stagione ce ne parla proprio il presidente Anselmi avete cambiato molto avete migliorato almeno dicono così gli esperti molto tutto questo è costato fatica? tanto sforzo sì abbiamo fatto un grande lavoro alla fine di un triennio importante quindi ripartiamo con una grande esperienza rispetto a quando abbiamo iniziato quindi siamo sicuramente convinti di aver fatto diciamo di aver messo a frutto l'esperienza che abbiamo costruito nei tre anni precedenti abbiamo fatto una squadra dal nostro punto di vista che è sicuramente nella condizione migliore per fare questa categoria nel miglior modo possibile poi la serie B lo sappiamo non è così scontata è così facile da ecco da disputare quindi alla fine sarà il campo che dirà cosa abbiamo fatto poi tra l'altro un allenatore che viene dall'Inghilterra dall'America dove lo sport femminile specialmente quello del calcio ha anni di precedenza su quello italiano e dove conta molto anche la forza fisica l'atletica sicuramente Mr. Mike ha un'esperienza come ho già detto internazionale quindi possiamo comparare il lavoro che stiamo facendo che abbiamo fatto con un'esperienza che va al di là di quella italiana proprio perché in Italia dobbiamo ancora fare dei passi importanti nel calcio femminile siamo convinti che la sua esperienza applicata con una squadra costruita proprio per questo può portare dei buoni risultati tra l'altro avete preso anche giocatori che provengono dalla serie A tipo una ad alzassuolo sì abbiamo diverse figure interessanti abbiamo rafforzato la squadra proprio per per avvicinare quella qualità che ci può permettere di fare la differenza in questo campionato sì abbiamo fatto un ultimo acquisto interessante però ecco dopo lo dobbiamo vedere applicato nell'ambito di una squadra siamo convinti che oltre alle qualità e alle esperienze precedenti le ragazze hanno anche l'alchimia giusta per far funzionare bene questa squadra all'interno noi sappiamo che il presidente Anselmi ha sempre dato molto ascolto anche all'allenatore è stato anche in questo caso dato ascolto all'allenatore allora diciamo che l'allenatore è arrivato che già gran parte del lavoro era stato già pensato con lui abbiamo ancora messo a punto alcuni dettagli stiamo continuando a mettere a punto alcuni dettagli forse manca anche qualche cosa rispetto alla sua visione però sicuramente riusciremo ad allineare il tutto prima dell'inizio del campionato la speranza qual è un gradino sopra quello che è stato fatto l'anno scorso oppure come alcune delle ragazze che sono convinte lotteremo per vincere lotteremo per vincere credo che intendano le partite le partite si iniziano per essere vinte non parliamo di campionato perché per noi quest'anno è il primo anno dove abbiamo costruito una squadra per questa categoria quindi potrebbe essere veramente l'anno zero di questa categoria siamo convinti che vogliamo comunque scalare la classifica rispetto a quello che è stato il risultato di anno scorso quindi vogliamo fare meglio sicuramente la parte sinistra della classifica questo è un po' l'obiettivo che tutti si pongono specialmente coloro che sono diciamo nella fase di ricostruzione come è stata la nostra è tutto per questa edizione del nostro telegiornale io vi lascio alla prima puntata della cosiddetta radiovisione della nostra giostra del Saracino una serie di appuntamenti realizzati in collaborazione con Radio Fly che andranno in onda appunto nella nostra programmazione da qui fino alla prossima domenica 3 settembre quando come sappiamo è in calendario la 144esima giostra del Saracino quindi non cambiate canale grazie per l'attenzione arrivederci 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 Grazie a tutti.